Buongiorno a tutti amici trader, bentornati al nostro quotidiano appuntamento con i mercati e le analisi tecniche di finanza online. Abbiamo avuto un segnale positivo sul Fuzzimib ieri, quindi adesso cercheremo di contestualizzarlo e poi vedremo anche due titoli bancari, Intesa San Paolo che ha brillato nella seduta chiusasi ieri e poi anche Biper. Come avevamo detto anche ieri mattina per chi ci segue con il nostro appuntamento quotidiano di Trading Floor, la divergenza che vedete sull'oscillatore, questi sono i rendimenti del decennale italiano, alla fine hanno pagato pegno e infatti abbiamo avuto uno sgonfiamento dei rendimenti. Quindi seppur con una rottura della trendline ribassista, pullback e nuovi massimi di periodo per i rendimenti, la divergenza alla fine ha portato a un ridimensionamento dei rendimenti. Diciamo che questo è un segnale positivo, lo avevamo sottolineato già ieri, in realtà anche lunedì, perché se volete approfondire il tema, infatti potete andare a leggere un articolo che abbiamo scritto sul sito di Finanza Online, Ufficio Studio Analisi Tecnica e vedete proprio appunto questo articolo qui, Fuzzimibie rendimenti BTP, segnali positivi su RSI ma serve la conferma dei prezzi. Quindi torniamo alle nostre analisi tecniche e infatti appunto vediamo che quanto abbiamo visto sul settore obbligazionario, che come sapete in situazioni soprattutto di tensione ha ripercussioni forti poi su bancari, utility, servizi finanziari, abbiamo visto ieri appunto una ripresa proprio di questi settori, con un ritorno a 20.000 in all'area di 20.500 punti, anche un po' sopra. Rimane comunque diciamo, seppur un segnale positivo, perché soprattutto avete visto, avrete notato i volumi della seduta di ieri, finalmente un ritorno di volumi consistente rispetto alle sedute precedenti, questo è sicuramente un segnale molto positivo, RSI continua a segnare divergenza, però appunto dobbiamo avere poi dei segnali di certezza sui prezzi. Quindi il livello da guardare per una conferma almeno di breve periodo è quello dei 20.800 punti, con una chiusura sopra i 20.800 punti avremo già un bel segnale da guardare sempre ovviamente i volumi, ma in quel caso avremo come target l'area dei 21.100 punti. Ecco questo forse è il livello di resistenza più importante, che se è superato al rialzo effettivamente ci farà pensare a un recupero dell'indice, quindi con sviluppi positivi verso i 22.000 punti e superiori. A ribasso invece, chiaramente il livello da monitorare rimane sempre quello dei 20.236 punti, da vedere se abbiamo fatto il minimo, ma ancora è troppo presto per parlare. Quindi molto importante sarà la tenuta di questo livello perché la rottura avrebbe implicazioni molto negative, avremmo sì un primo target a praticamente 20.000 e poi 19.780 punti, ma un eventuale break anche di questo aprirebbe proprio le porte in volata a uno scivolone fino anche a 18.7. Quindi capite che ancora la situazione è critica e bisogna monitorare questi livelli che vi ho indicato. Anche oggi Biper apre bene con più 1,5% e si trova a scontrarsi con un primo livello di resistenza molto importante, è quello dei 4 euro, infatti abbiamo visto che il titolo ha perso molto nel mese di agosto, ma ha tenuto per fortuna il livello fondamentale, perché è quello del 61.8 di Fibonacci, di tutto l'up trend cominciato a luglio del 2016. Il break infatti di tale livello complicherebbe molto, annullando praticamente di fatto tutto il trend rialzista, quindi ha tenuto un livello effettivamente chiave per il titolo. In questo momento ci siamo riportati sui 4 euro, questo è un altro livello che come potete vedere è molto importante, un livello statico, anche se diciamo una conferma della ripresa di forza del titolo l'avremmo, a mio avviso, con una chiusura, quindi più cauta, diciamo come posizione questa, una chiusura sopra i 4,165 euro. Al di sopra di questo livello non dovrebbe essere un problema prendere come target i 4,5, quindi questa fascia di prezzo tra il 4,48 e il 4,55 euro, qui è un livello diciamo di resistenza piuttosto importante, avete anche la appunto media mobile 200 periodi e poi il 38.2 di Fibonacci. Superato anche questo livello non dovrebbe essere un problema tornare ai 5, però si ragiona ovviamente sempre per step, dunque a ribasso critica sarebbe la rottura dei 3,77 con eventuali ribassi quindi fino a 3,5 e 3 euro. A rialzo consiglio l'attesa di diciamo la rottura dei 4,165 per puntare poi a ulteriori rialzi. Scopri gli strumenti di trading di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it o chiamo il numero verde 800-01-11-22. Come abbiamo detto ieri Intesa San Paolo ha brillato con una performance importante, anche qui come vedete il titolo è andato a fare per il momento, si spera che sia il minimo però diciamo per il momento ha trovato come supporto questa fascia di prezzo che è quella dei 2,169 euro che poi corrisponde al 61,8% del ritracciamento di Fibonacci di tutto l'uptrend avviato a giugno del 2016. Anche in questo caso quindi effettivamente per il momento Intesa si salva su un livello chiave per il titolo. Come potete vedere appunto abbiamo avuto un rimbalzo, a questo punto diciamo un livello molto importante che ci potrebbe dare appunto conferme di forza e quello in area 2,36-2,4 euro dove abbiamo il 50% di Fibonacci ma come vedete anche a occhio è un livello di resistenza, prima ovviamente di supporto statico molto importante. Ecco il break in chiusura con una buona dose di volumi che abbiamo già visto tra l'altro ieri sarebbe sicuramente di conferma a questo movimento, a questo tentativo di rimbalzo. Quindi ovviamente sui bancari fino a fine settembre almeno quando verrà appunto definito il DEF bisogna stare molto attenti perché sono tra i titoli più sensibili appunto all'andamento dei rendimenti dei titoli di Stato e quindi un po' la situazione italiana però diciamo possiamo pensare che sopra questo livello già avremmo come possibilità almeno di prendere quello dei 2,56 euro di target. Grazie. 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 Grazie.